Ok, ora dovresti sentirlo di meno. Ok, ascolta com'è che si chiamava il giochino che giocavi l'altro giorno? Quello che ti ho preso io. Ci giocava anche Black e gli altri sotto. Ma come mai mi mette il copyright se accende la radio? Eh, devi mettere delle canzoni. Sì, 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 si sente nella live però se lo riascoltano magari quel pezzo ti viene offuscato. Ma non è niente di che. Sì, sì. 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 che poi io su Steam ho visto che c'era l'aggiornamento del nuovo Scania questo nuovo Scania mica si trova questo nuovo Scania Grazie. 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 Buona. Andiamo. Panna si scioglie sicuro. Non so cosa serve. Andiamo. Andiamo. Grazie. Vieni qua la rosina. Vieni qua la rosina. Grazie. 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 Grazie.